Sempre quel giorno con l'energia bassa, la campagna salentina è piena di fiori. Allora il rosso è il mio colore preferito. La campagna salentina, chi la conosce sa che ci sono papaveri, quindi queste distese di rosso, giallo. E sono i colori che io ho visto quel giorno, ero in giro. Però il cielo era plumbeo, non era col sole, era proprio così. Sì, alle tre di pomeriggio era grigio, sì. Tu parli di quel giorno, che vuol dire quel giorno? Un giorno si, di sfiga, si ha fatto un incidente, è brutto che non ne voglio parlare. Hai trasformato quel giorno in... Beh sì, dopo ho dipinto. Positivo o negativo? No, l'ho trasformato in positivo, ho dipinto. È molto bello. Grazie. E questo sotto, Adri? Questo me l'aveva chiesto per una mia amica che lavora, come si chiama Manu? La casa editrice di Angela, Vanda. Ma ha questo cuore... Vanda è una casa editrice online. Per San Valentino mi ha detto, Adri mi fai un cuore. Siccome c'era casino in Grecia, e io amo la Grecia, ho detto, ma un cuore io dal Salento lo mando in Grecia. E tu che è San Valentino? Una donna che guarda in Grecia, una botta di vento, dal Salento un cuore arriva in Grecia, noi siamo a due passi, Corfu, due ore. Eh, ci ride, sì. E qui, ecco, aspetta, aspetta, aspetta. Qui invece c'è la leggerezza, forse. Eh sì, questo è il vento, è una meraviglia. Il vento? Il mare, sì. Il vento, molto. C'è molto vento. Ma c'è un sacco di vento. C'è di vento, lo sai? Sì, il salento è... Allora, ho notato che... La terra dei venti. Che tu rappresenti la donna sempre di schiena. La maggior parte delle volte sì, ma anche gli uomini. Eh no, le persone. Le persone, sì. Perché di schiena non guardi il volto? E perché fare un volto è dare un'anima? Io mi metto paura. Ora, da un po' ho cominciato a fare... A dare anche un'anima. Ho cominciato facendo il ritratto di mia madre. Però ho visto il tuo ritratto, quindi... Sì, un'autoritratto. Eh, non so. Io e lei, te davanti allo specchio l'hai fatto, l'hai affrontato? Sì, sì, per come mi vedo io ho fatto quell'autoritratto. Però ho dato un'anima. E quello è l'importante della pittura. Questo viene da un lavoro di due anni prima. E questa è la notte che io ho sempre amato. È un uomo e una donna? Sì, sono esseri umani, non si capisce. C'è confusione. Maschio, femmina, non importa. Sono asessuali. Ma sono abbracciati. È tenero questo quadro. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Grazie a tutti